La conclusione cercata da Beresischi che tocca dietro Adrian Silva Candreva con il destro, va a cercare colpo di testa Yoshida, ancora Ospina Due volte nel giro di un minuto per salvare il Napoli Si fa vedere in mobile, l'appoggio è esterno per Sergei, Minicovic-Savic, balla dentro, la botta al volo di Luis Alberto Vola Ospina a mettere sopra la traversa, tutto splendido, il tiro di Luis Alberto e il volo di Ospina a negargli il 2-1 Coulibaly, palla che arriva alla padula, Donati, c'è vicino Saponara, guarda la porta, Donati! Ospina, non è finita Falco, Rispoli, piazza il cross, Barak, Ospina, poi Saponara, chiuso da Cagliecon De Poole, va dentro, la lascia lì Manolas, parata super, di Ospina su Lasagna, ad impedire il 2-1 Udinese Bernardeschi a vuoto, Bentancur, Ronaldo, Meret la salva Il riflesso prodigioso di Meret con Cristiano Ronaldo che non è riuscito a dare angolo su questo tiro ravvicinato Bernardeschi, l'appoggio dietro, Bertacur la lascia scorre, Chiesa, la risposta di Meret Corre Morata, apri a sinistra per CR7, dall'altro lato Kuluseschi, insiste Cristiano Ronaldo che va a puntare Rachmani Col sinistro dentro, il piedone di Meret a mettere in corner Largo per Chiesa, il movimento di Alexandro, se ne va Chiesa, prova il cross, basso, Morata, la caccia col destro Ancora Meret e poi Maximo vicino Alexandro, su di lui Lozzano, lo spunto di Alexandro, il cross in mezzo, il colpo di testa di Ronaldo, centrale, la tiene Meret Finisce 1-0 per il Napoli Mischia qui il Napoli, allora Barella e vuole il dribbling, guarda la porta, Barella Correa c'entra il palo Cross dentro, il movimento di Milinkovic, il ginocchio di Meret ha salvato Può andare al traversone, eccolo che arriva, di testa Milinkovic, Savic, immobile Meret, Meret e poi ancora Leiva, sul fondo Col secondo Mané, Mané che riceve, Mané, Meret Rimpantaggio con Salah Per mano la ass, errore clamoroso, Salah, Salah Meret, Meret, salva il Napoli La Grascosta, pensa al tiro, ci prova Incrocio dei pali E poi con il petto Manolas, in anticipo su Higuain Che partita allo Juve Stadium Disinvolto di Gonzalo, a cercare Kalinic, largo a destra, c'è e riceve Ilicic che va a puntare Goulam, si accentra, prova la botta col sinistro, con la punta delle dita, Reina in calcio d'angolo pallone difficile che schizzato all'improvviso sull'erba, poi ha ripreso velocità, si distende Pepe Reina Cerca lo spazio per il cross che arriva, la smorsa Vecino, D'Ambrosio prova a piazzarla